Quanti sono i formaggi del Piemonte? È quasi impossibile elencarli. Molti hanno la denominazione DOP, ma non possiamo che partire dalla toma. In particolare quella di Condove, che nel primo weekend di ottobre ha celebrato con grande successo la sua 33esima edizione, una delle più partecipate e coinvolgenti, complice un'anomala giornata estiva e la qualità dei tanti produttori presenti in piazza. Tra loro, tante giovani donne, ha dimostrazione che produrre formaggi di qualità è una strada professionale di grande interesse. Come Rebecca, dell'azienda Edolat di Condove, che produce formaggi freschi e stagionati. Cosa significa avere una toma marchiata con il nome del vostro paese? Che comunque è un formaggio denominato da Condove, quindi prati di Condovesi, montagna di Condove e tutta azienda agricola condovese. Sapevate che la toma di Condove ha ottenuto la decodenominazione comunale d'origine? Si tratta di una certificazione che ha lo scopo di legare un prodotto al suo territorio comunale. Un valore aggiunto rispetto alle denominazioni protette a livello europeo, per attestare la tipicità legata alla tutela e alla valorizzazione di un prodotto artigianale. Quest'anno la nostra toma entra in questo nuovo protocollo, che si chiama un protocollo di denominazione comunale, in modo da poter identificare con il nome del nostro paese questa eccellenza del nostro territorio. È una piccola iniziativa di promozione locale, che però pensiamo possa dare una spinta in più a queste aziende agricole, che hanno due peculiarità. Uno, sono molto resilienti, perché nonostante il periodo complicato continuano a produrre e a lavorare sul nostro territorio. Due, stanno vivendo anche un cambio generazionale al femminile, perché i nostri produttori sono ormai diventati prioritariamente delle ragazze e delle donne, che ci fa ben sperare per il futuro.